Sono giornate dal grande significato, da un grande significato che stiamo cercando di dimostrare in tutti i modi come Regione Lombardia, attraverso risorse, attraverso quindi finanziamenti concreti che possono essere di grande supporto per le famiglie, per le persone con la SLA, ma anche attraverso l'informazione, attraverso la sensibilizzazione su un tema così importante. È quello che stiamo facendo questa sera, in questo momento abbiamo illuminato l'ultimo piano, la Sala Belvedere di Palazzo Lombardia, proprio per lanciare un messaggio alla comunità, a tutti quanti, di vicinanza e di attenzione a queste persone, a questo grande tema e dobbiamo essere tutti comunità per cercare di lavorare ancora di più, al meglio, per aiutarci tra di noi e supportare queste famiglie che vivono momenti veramente molto difficili.